Dopo la bruciante sconfitta di sabato non sarà per noi affatto semplice entrare in partita mercoledì, ma vediamo quanto siamo brave a cancellare una situazione mai passata e buttarci dentro con la testa piena su un evento che dobbiamo affrontare. All'andata contro il Berizzoli siamo riusciti a vincere 3-2 dopo una partita abbastanza estenuante, durata due ore forse più. Devo ammettere che comunque loro sono state molto più incisive e aggressive di noi. Noi non abbiamo fatto una partita molto brillante, ma nonostante ciò siamo poi riusciti a chiudere a nostro vantaggio il confronto. Sarà un bel confronto interessante contro loro e quello che mi auguro è che noi sappiamo voltare pagina e dimostrare con orgoglio e cattiveria che quello che è avvenuto sabato è soltanto frutto di una casualità.